ragazzi ragazzi è giunto il momento lo desideravate ardentemente eccoci con l'analisi di suspiria 1977 targato da rio argento un thriller assordante possiamo definirlo così un thriller che diventa salto ai tuoi sensi sia all'udito che al nervo ottico si si mette in primo piano l'ambientazione spettrale che va a inghiottire tutti i personaggi presenti senza rimorso alcuno è un qualcosa di rivoluzionario riconosciuto dalla critica internazionale qualcosa che rifinisce i top e i canoni dei thriller anche odierni se possiamo metterla così quindi andiamo a vedere un attimo in giro andiamo a spulciare i commenti sciocche che hanno riconosciuto questo valore aggiunto questa qualità intrinseca che possiede suspiria insomma non perdiamo altro tempo cominciamo speciale halloween argento ci porta in un'accademia di danza per portarci a scuola di colorazione bene avete visto ha riconosciuto la caratteristica principale del film rosso verde giallo e blu accesissimi buttati in faccia agli attori e disseminati nelle scenografie fiabesche non ci vedo nulla di male anzi è una scelta stilistica messa in risalto va bene la livria è intensa lo scheletro e l'apparato no trucco ed effetti speciali scadenti omicidi ridicoli filo spinato che si vede benissimo che è comune fil di ferro ma che senso ha una stanza piena di filo spinato ma non puoi abbandonarti al linguaggio adottato dal regista e al suo alla sua interpretazione a come rifinisce modifica di netto e rivoluziona la narrazione che è tenuta sotto controllo della madre sospiriorum va bene ok queste cose non ti vanno a genio ho visto tre film di argento in due ci sono le larve sarà un appassionato di pesca bella battuta benissimo ma pensate ma quanto sono simpatici non lo so come l'avrei giudicato i tempi della sua uscita probabilmente con un we we ga 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 allora avrei capito l'effetto sonoro invece qua è un we we ga 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 sapete cosa sto pensando rara un mamma rambana nana gaga un mamma ma già ben romans visto che è del 77 ma vedendolo oggi non si può che dire schifezza immonda per quale motivo di grazia la trama elementare per un'ora e venti è tutto un susseguirsi di sciocchi eventi che servono a preparare quello che dovrebbe essere erbotto finale perché se non c'è sta erbotto non mi soddisfa che invece è un fiasco finale il sangue finto di una tonalità assurda è sangue messo in risalto è un sangue accesissimo quindi sembra che sia stato girato dopo che gli attori si sono fatti una spaghettata capperi e pomodori questi commenti riservano la battuta finale la punchline che non posso disprezzarli mi stanno troppo a cuore il sangue che viene esaltato apposta perché poi esaltato da un'anima che vaga tra le mura della scuola di danza è un'estensione della rabbia intrinseca che possiede ma niente ok niente non ci possono arrivare a queste interpretazioni scusate lasciateli nel loro brodo o direi il cinema horror italiano se solo esistesse fammi capire bene fatto eccezione per quel gran film di amityville possession il prequel di amityville horror diretto da damiano damiani cioè gli altri sono solo putridume venduto per oro ma chi ti stai rivolgendo cioè ti stai buttando dentro tutti nella mischia bava fulci deodato argento va bene cioè non li riconosci come pellicole rappresentative che hanno segnato un'epoca e sono riusciti a spiccare in un mercato internazionale competitivo va bene questo coso nel classico esempio la trame ridotta all'osso troppo semplice lineare omicidi neanche tanto efferati io ci volevo una componente torture porn e invece non sono stato accontentato troppo finti troppo surreali in questo contesto è il biglietto da visita di dare argento la sospensione dell'incredulità deve regnare è un viaggio di sola andate in un inferno appunto surreale metafisico ma non ci arrivate possibile che non riuscissero a dare la giusta tonalità di colore al sangue finto ma di nuovo era un dettaglio che doveva essere messo in risalto come se uscisse fuori dallo schermo e doveva raggiungerti dove essere percepibile palpabile non vado matto per argento e questo film è l'ennesima delusione di che cosa di un'intera filmografia che si riconosco è fatta di alti e bassi più bassi che alti ma con gli alti si raggiungono vette importanti e incommiabili effetti speciali indegni a caratteri cubitali indegni basta con sta tempera rossa non se ne può più non dite il film è vecchio perché bave fulci se la comandavano già all'epoca tempera rossa qualcuno gli spieghi di questo dettaglio questo rosso molto intenso che doveva amalgamarsi con un impianto fotografico ricercato storia non entusiasmante finale frettoloso poi mai una volta che i film di Dario finiscano in tragedia il la protagonista si salva sempre assurdo e per questo è da bocciare passiamo oltre per carità non è Dario Argento non mi ha lasciato neanche un minimo di suspense secondo me non è neanche horror mi dispiace non posso mettere un voto positivo papapero è chiaro è chiaro il film di Dario Argento non mi piace non sarà il maestro dell'horror cazzi e mazzi ma io non ci trovavo nulla che faccia paura o suspense nessun elemento terrificante che non ti fa dormire la notte non ci ho trovato nulla di brutale nulla di così incisivo niente a me questo ha fatto ridere oltre che super annoiare sti gazzi che cagata non provate a dire che è un capolavoro dell'horror i film belli non hanno età questo non è un film bello è più un comico che un horror che tristezza poi i dialoghi e la recitazione ma anche la trama dai io non so come rispondere a questo commento ragazzi non so allora come prima cosa perché porre in primo piano cagata e poi scandito lettera per lettera quando tanto non ti ascolterà nessuno bisogna andare ad esplorare espandere gli orizzonti cinematografici e riconoscere i meriti di un film che ha fatto storia non so il tuo intervento mi risulta un tantino inutile film sopravvalutato di un altrettanto sopravvalutato regista beh modestamente perché io ne so più di voi narrativa sterile dialoghi ridicoli scenografie ostentatamente rosse eeri dai e ci risiamo qualche figura grottesca qua e là per rendere l'atmosfera più straniente il piatto è servito no ma non basta molto graziosa la protagonista senza dubbio ma con evidenti carenze interpretative come quasi tutto il cast d'altronde ma un cast al servizio di un regista che vuole volutamente mettere a suo quadro soggetto svolgimento e intenti morti e uccisioni quasi comiche in puro stile dar argento è un regista di horror non commedia regia abbastanza notevole regia notevole ma comicità è un puro stile dar argento tagliocenci raccata film con lo speciale halloween commenti shock su suspiria del 1977 finito ora mi calmo aiutatemi intervenite sotto nei commenti vi aspetto numerosi mi raccomando un saluto carissimi seguaci del raccata film ciao buon halloween a tutti alla prossima grazie grazie grazie